L'incredibile autogol, lo vedremo, di Danai dà la vittoria al Malmo. Completamente sbilanciata la difesa del Besiktas, ci sarà un traversone verso il centro, una deviazione acrobatica da fare il paio con quella di Maradona. Ed è autogol, l'autogol che decide la partita a favore del Malmo. Ecco il traversone e vedete l'acrobazia splendida sotto l'aspetto atletico.